mandatemi la richiesta sì mandatemi la richiesta tanta persona online dove cazzo stai o io sto entrando qua se me la stiamo al computer qua sto entrando è se ti fa entra dove aprirlo prima mi sa ok io c'è io ti ho dentro devo aggiungere santino ciolla santi quando sei dentro dimmelo è andrata entrando io ho tolto la giotto vocale così almeno c'è un posto per uno di noi ma te non lo so non lo so facciamo ero ci sei cinque minuti ma tra ci sei senti la zona ci sono in vera e ma dove sei qua non te ne so tenerti sono spaventati se ti trovo line io altro cazzo è qua a matteo che si ufficiale di qua poi fai riuscire al gruppo vai vai ma te ma tu qua c'è se giocare se c'è ma io non vedo allora sentite giocare a fortnite alla vecchia season ma io non vedo proprio l'ora non vedo amore io cazzo è pronto regalo veloci poi non lo puoi segnalare per tipi chilla ma santino giolla ma è un amico mio ma te pare no no perché ma quello di chiama ha rovinato la base porca puttana ma che cazzo stai detto rovinato la base non è vero sì ma vedi domani mattina quando ti svegli ma scritto orale che mi piazza di c4 dappertutto la di net e porca puttana sì sì ma dopo vedi cazzo che roba domani mattina voglio ridere domani mattina voglio ridere ma te però tu devi capire una cosa io sarei io sono anche squalido sono un ratto però devi capire una cosa che i ratti sono animali molto intelligenti si sanno muovere quindi stai attento al ratto ma quante ore ci hai messo per creare quella cazzo di cosa a forma di cappella diciamo noti una trappola era mica era una base quella ma io mi sentivo in colpa cazzo perché avete distrutto quattro muri ma te però hai visto io ti ho fatto una base a forma di cazzo perché sapevo che ti piaceva e tu sentato da dentro come trappola hai visto ma te metti pronto ok a posto hai visto ma te c'è minchia ma che oggi che oggi che cosa c'è qua che è remix dei pregliuti l'evento finale l'evento finale l'evento finale ma dicono che già iniziato no tre minuti dice tre minuti e trenta cosa che c'è vado a prendere a mangiare vai mi sa pure io lo piavo a costo oggi su forte di minimo un'oretta me la sparo e ve lo dico a minimo un'ora me la faccio io stasera ok eccovi ma cazzo no vado a prendere a mangiare arrivo tanto 3 minuti faccio in tempo vado a corro chi è? Don Blur? 10 minuti a guardare la live mia oh ma cazzo no? oh eh che è successo? stai incerto madonna che cazzo è perché non mi si vede in live ma non io ho preparato i pop corn io preparo un brodo vegetale qua vai vai a dieta ma tu cazzo siete che io non bevelo non c'era il gioco sì sì io ci sto non sei qua da me però dove cazzo stai? oh manco io non ti vedo nel gruppo e io ne metto da bug out boh ma non mi si vede forte voi si vede forte a me si mi si vede tutto nero what a fuck ma voi che schiena vede ma che figo cioè ti fa vedere lo schermo della vita reale guarda che figo ma te guarda che figo guarda che figo ma nella vita reale ma dove guarda che figo ma ci volevo andare pure io la temo squadra temo squadra da come cazzo si chiama time square da squirt però non mi sembra così però non mi sembra così pieno eh vabbè però guarda quanta gente che sta lì a time square guarda che bello vabbè trasforma adatta allo schermo ok a posto voglio essere lei ciao edita a posto cioè questo è in tempo reale dita mmm che figata dovrebbe essere in tempo reale si ah e ci sono le persone tipo nella realtà che stanno a vedere la vento dieci minuti vedi la che figata proprio collegata con la web vedi che figata cazzo no vabbè vedi la cazzo devi fare punto scrammativo punto scrammativo server quant'avranno pagano lega per fare una cosa che andare sul disco hanno pagato milioni minchia altro che c'è 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 c' c'è fake proprio time square ok ci siamo aspetta ma te il problema è tipo sei filizzata solo non so manco io perché ma poi lo che succede però effettivamente sembra fake no no vedi che è vero guarda là vedi che è time square guarda che bello secondo me se cerchiamo le cammelle dietro che ci sta tipo lo stand là dietro nella partita che sono di voglio penso ospite lo so io però troppi ma non c'è piena la piazza guarda là vedi che la passano in boom ma nelle mani guarda che figo cazzo la cosa e che anche nel comune di new york e minchia oggi e sa fa soldoni a dare concessioni guarda la ora vediamo un attimo come sarà la mappa ma ci mettono la mappa quella la vecchia logì giusto quella del season 2 capitolo 2 vabbè ma non cambia nulla alla fine giusto nulla cambia la quantità credo qualche cambia qualche 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 arma o che cosa si capitolo 2 è il secondo capitolo di forte dove c'è l'agenzia brugliere in che periodo uscito più o meno il 2018 tipo capitolo 2 2019 e quando è esploso quando quando c'è stato il buco nero nel 2019 prima del covip io mi ero per il pc non ricordo il 2019 vera vediamo chissà che vento chissà cosa succede ma io voglio cercare le cam in tempo reale ragazzi eccomi e ma tutti un ricerchi ritrovi subito con timer e sopra che c'è sta l'evento subito le trovi allora new york times world al campo vediamo ma è vero è vero è vero ma stavista cercate new york times world al cam è vero quello che cos'è aspetta un attimo però che col telefonino perché come scoppia il pc porca buttana ok allora cazzo è questo guarda dalle cam si vede tipo tutto il dietro la quinta si vede allora qua oddio guarda quelli che ci salutano ah si se siete fanno dei mortocchi e se fatti su in giù come si rubite dentro il culo ok io ci sono eh ci sono ragazzi ma così potete potete abbassare così tipo così devi far così vedi così vai così dovete fare se siete mie fanno così uno e due che giù si è abbonato per 13 minuti ma non piangono grazie Molte, mi senti? Sì Ma potrebbe essere l'evento più bello di Fortnite Per fare una roba del genere Non lo so io Speriamo bene Però l'importante è che non mettono quelle cazzo di macchine là Quelle cacatella delle macchine che ti sparano dalla toretta Perché letteralmente facevano schifo Poi per il resto possono fare quello che vogliono No, non c'erano Basta che mettono le cose oggi E se ne ha a posto Ah, poi è una cosa molto importante Ma li mettono nei veicoli Ci sta nei veicoli Qualcosa c'era Sì, mi ricordo Cinque minuti e se parte con l'evento Tu dici che da Season 2 C'era la meta Tanti tu voleri giocato Ma sei controverso che forse ci sarà il buco nero Come ai vecchi tempi Perché è il capitolo 2 Un buco nero in che senso Ma come? Non l'hai visto? No Non ti ricordo Capito Io da buco nero Ho visto quello del me nonna Che cazzo ne so Che ne guardiamo a te Ma nella mappa Fanno come una volta Magari una volta se lo potevano permettere Perché per io c'è stavano Ma ora c'è stato su Fortnite Cioè non ci sarà nessuno No, vediamo Sì, ma lo leveranno secondo me ragazzi Faranno subito giocare Però è strana sta cosa Perché effettivamente C'è aggiornamenti noi non li hanno fatti Quindi effettivamente Può essere come dici tu Che fanno vedere l'evento E non giochi Boh, vediamo un attimo Quanto qua mancano 3 minuti Raga Ma poi mi ricordo anni fa Quando il nostro buco nero 3-4 4-3 Remex Guarda là Guarda quanta gente che ci sta Io sto a far niente di mangiare Dai eh Meno 3 minuti Vai che ci siamo Allora ragazzi Ma bisogna fare di buona missione dopo? Quando siamo dentro Non lo so Non lo so Nessuno lo sa come l'evento Allora ragazzi La roba è buona qua Buona e buona Ma te le sub e goal Cresce Non sono Le sub sono 773 Lo so rude Lo so Perché magari aveva fatto la sub Da tempo Grazie Biancio Grazie mille E O magari qualcuno Si è disiscritto Non lo so Magari qualcuno ha chiesto un rimborso Non ne ho idea Come funziona Esatto Allora cosa si è basso Stavendo Non ne ho idea Vediamo Comunque Se mangiare Il minestrone Con i faccioli E' buono Non è male Poi oggi ci ho messo pure il prezzemono Ma c'è solo un piccolo problema Non è Nutella Eh signori La Nutella mi piace Ma se voglio un corpo scolpito Non mi ricordo Che capirei Tipo capitolo 4-5 Non mi ricordo Ma comunque I tempi molto recenti Poi ho parlato con Matteo Ma poi Io te portano E te raga Però me faceva schifo Madonna Io Io senti Io ti devo ringraziare Perché Tu non lo sai Ma io Io pure Che tu mi ha scherzato la base Ma te altro No 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 Poi ti scherzi Momento Momento Dolce Dai No Tu mi ha scherzato la base No veramente Non sto a scherzare Che Mi hai dato un sacco D'aiuto Mi hai fatto un sacco Di compagnia Quando stavo male Stavo triste Vero 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 Quello è vero Quello è vero Quando ci stavo E' un attimo Stati insieme Quello si è vero Quando c'erano le ragazze Che me trattavano male Tu Insomma Mi stavi vicino Ma io Ma te Devi capire una cosa Però Io te stavo vicino Da Da me Tu Ah Non pensare Cosa strane Che poi vanno a Dicchio Sono ok Ma come Non ti piacevo No Come no Come no Che sta succedendo Che è Che è Che è Che è Che è Successo Ragazzi Si è aperto Il bus Dello culo Si è aperto Grazie Bene Quella cosa Ragazzi C'era Che figo Oddio Non puro Ma che succede Che Che cazzo Che cazzo è Oddio Chiaramente Ero Andiamo Guardiamo che figata Che sta cosa Ma questo è live Oddio muo' esplode il new york ragazzi o meno male che Matteo diceva una persona da quanti ce ne stanno la minchia guarda quanto è pieno da giorni ma secondo me no ma quanto è costato per tutti quanti schermi di game square guarda quanti ce ne stanno ma secondo te hanno fatto pagare a questi il biglietto per vede sta roba non lo so ma vento che si mi chiamava davanti tutti che hanno speso devi spendere a mare dei soldi per organizzarti a fa sta cosa la cantante e poi sì non la conosco ragazzi che cazzo è questa fa buono lo so io ai spice e chi è spice che è famosa che stavano le cercate di urlo ma donna come che si chiama ice spice ai spazi ai spazi a madonna però pure pure insomma è una bella ragazza e non è male beh oddio un po rifatta sulla faccia forse forse un po credo non so ma non è questa qua però già non è lei però già a dubbio c'è dubbio e dio come si spetta un attimo ice spice si chiama ma non è me sai spice non spazi ma lo so aspetta ragazzi mi piace di più anna beve che questa mi spiego bravissimo più bella anna beve anna beve non se fate anna beve tutta la vita guarda la devo vedere vento di forte addirittura ma che ce l'hai duro ma chi è uno in chat c'era duro addirittura ecco me raga ecco me come nessuno che balla nessuno che canta ma che perché è un pollo ma questa cosa come tipo vestita è presente dei tipo le le moglie di quelli la che c'è uno del gastro che sei solo di me sta bene con la belliccia che vanno a cacciare a fare i colloqui e lega se guardate modalità gioco c'è la pelliccia del mercato aprite modalità gioco ci sono le persone reali qua ma dove amiche che ballano del figo è ma non è una vita di sparisco sono proiezioni delle persone che sono la ok si va vero se ti avvicini scompaiono ma si vede proprio la faccia di quelle persone reali è sfocato no ma non so questo personaggio non so reali no pare mica pensa una cosa deve avere dei bravi si impossibile vedi che non è ma è uguale magari con l'intelligenza artificiale si può fare con l'intelligenza artificiale ma dovresti chiedere diritto a tutti quanti ma te non lo potessi fare in teoria beh se compri il biglietto magari ma io volevo vedere l'avvento finale comunque non volevo guarda qua no guarda allora faccia se di assolutamente parlando con voi a me da questa che campano a me ne frega un cazzo io voglio giocare guardati intorno guardati intorno c'è proprio tutto new york c'è una figata è quella cosa per amoco ballano boh vediamo un attimo ok è finito lei secondo me ma ora entra Snoop Dogg raga lo dico io 100% ma entra Snoop Dogg io mi ho letto il coso di Snoop Dogg quindi sicuramente ma entra lui dai 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 lo stasnoop dogg guarda il tazzo che ci sta là in fondo guarda Matteo guarda là guarda che c'è il tazzo che ci sta là in fondo no eccolo eccolo te l'ho detto io te l'ho detto io cazzo damn che grande queste che sono le canzoni nuove o quelle vecchie no questa è vecchissima sta canzone non mi ha sentita guarda là oh ma guarda pure la postazione dietro che roba tutta cazzo ma dite che a mettere una schiena su tutti i stupodoggio io la voglio ma mi sa che c'è già o sbaglio no ma che stava una volta ora devi shoppare tipo non ci stava al coso ok tipo la schiena parla tipo 100 euro ragazzi come la farà tantissimo non c'è se la metto nel passi subito me la piglio quanto costa? 100 euro perché è rarissima è tipo una schiena del 2018 2019 infatti era schiena del capitolo 2 quello che metteranno adesso ma tremini scolp metteranno le vecchie skinne raga ve lo dico io aspetta che qua hanno fatto nello scorso nel passapattaglia ma te che hanno messo le skin vecchie del capitolo 1 diretta da brindisi da brindisi e qua invece è diretta da monti no da campione qua campione fermo fermo che si illuminano guarda che figata ma te mai visto che hanno aperto il mcdonald a fermo a campione sì sì ho visto mai andato sempre pieno è sempre pieno ma pieno così pieno pieno ma chissà che cazzo organizzazione c'è dietro raga per far passare macchia sai quanti milioni che ci stanno dietro per chiamarli gruppo dog che in pratica il rapper è più pagato al mondo tipo 100 milioni l'anno di fatturato ma secondo me più che altro non è sum dog è più che altro la sicurezza è tutta la sicurezza non lo sai quello si a voi e poi ci saranno i cerchini su teggi secondo me che in questo periodo minchia dopo aver fatto una tentata a trampo qua i controlli sono altissimi comunque se avete modalità di gioco è tutto a tema è una figata tutto a rancione manchia la console è fighissima ma quindi c'è sta gente che paga per giocare no per giocare che compra le skin c'è sta gente che le compra minchia compra le skin e passa battaglia i soldi che fortemente si fa con le sponsor all'interno del gioco a voglia fortemente minchia ragazzi quello di sponsor va ai milioni a voglia ma qua non bastano i milioni c'è per fare una roba del genere solo questo penso che 4-5 milioni costa solo per fare questo poi in pratica che fanno Matteo in pratica per le skin personalizzate tipo questa qua di Snoop Dogg che fanno? contatto con i rapper tramite manager gli dicono senti noi mettiamo la tua skin all'interno del gioco e tu per ogni acquisto che riceverai della skin riceverai tipo il 20% e il restante lo incassiamo noi capito Matteo così fanno hi Beyoncé io posso che la schiena di costarmi le pubbacche 12 euro quello che fa guarda la roba si si è buono cazzo ma sta canzone io non l'ho mai sentita la senti comunque oh che è questa? questa? oh questa è bella cazzo questa è bella cazzo troppo like se like so tipo così fa la canzone ciuuuummm ahahahahah quella è spice una canzone è famosissima raga questo 3 Snoop Dogg ma questo era sempre Snoop Dogg era sta canzone? si la sua originale questa canzone qua mica ha fatto i miliardi cazzo ma che nico bandetta qua per te non ci sta nico bandetta ma quando mai quello sta in carcere ah però aspetta c'hanno tutti un braccialetto c'hanno un braccialetto tutti quanti però allora vuol dire che queste qua sono le persone vere che stanno a ballare ma scusa dove ce l'hanno sulla modalità quella del vivo ma i spettatori ma secondo me è tipo un passo per entrare secondo me raga avranno pagato secondo me è tutto chiuso e ti fa un passo che hanno un braccialetto che hanno pagato che tu entri e metti così e ti identifica e ti fa entrare così è secondo me beh tutti questi soldi ti saranno costati i biglietti con un centinaio di euro ti sa se ci sarà pure pizza in mezzo pizza? no pizza pizza shooter shooter ci vorrebbe mi sa che shooter c'è andato ma mi sa che shooter sta in live te lo dico io l'hai virla? si ma pensate la gente che vive proprio lì che vive mi chiamate di loro però raga io sto a guardarla finché non parla nessuno che cazzo è che due e tre stanno tipo a ballare io ti fermi là in palate a guardare però è una cosa che è bella come cosa raga è bella davvero ma dai che cazzo di cosa l'hanno messo di un cubo quella è davvero bella ce la dire che è molto bella a voglia ma se solo così non c'entra niente con fortnite come no oh che è sei chiuso che è? oddio non mi avrei più lo schermo intero perché? oddio l'hanno levato oh il disco cannezzo guardate oddio che cazzo è che è sta cosa? buco nero o la madonna no o la madonna dove va? ma che è? ma devo entrare nello schermo? ah guarda la sopra tipo bomba tona ma si sta a fare nift e là? ma devo entrare in nift? si sta a creare nift? ma ci però raga non bisogna entrare in nift? no non mi fa andato dobbiamo aspettare raga dobbiamo aspettare dobbiamo entrare a me madonna che figata raga guarda che cazzo è cosa che si è aperta da sopra cazzo oddio eccola oddio vai eccola la canzone bella sta canzone ci va qui il davvero dei minchia bella che è il cazzo eccolo stop down stop down eccolo eccolo chi è qua ci sta Eminem ma chi è uno vero o è no è la skin la skin ah eccolo eccolo ci stanno madonna o quanti anelli ti ha mandati già Ma sono veri? Ma penso di sì, cazzo Oh, c'è Spice entrata Oddio La collaborazione dell'anno, cazzo Ma ci pensate si tira fuori il cazzo Pensate che è il content Che fa? Canta pure lei, canta? Eh, boh, può essere Cioè, panierebbero, ragazzi, tutti quanti su Twitch, cazzo Altro che Ma se si tira fuori il cazzo, che succede, ragazzi? Cioè, panionano tutto quanto Da primo all'ultimo Conosci solo sta canzone di Snoop Dogg, eh? Ok, penso che hanno finito, eh Hanno finito di cantare, mi so Sì, secondo me sì Eh, finalmente, minchia, raga Mi sono rotto le palle, io Io voglio giocare, cazzo Minchia pure Travis Scott devono farla entrare, però Ah, pizza è caduta in moto? Vuoi vedere che lo fanno venire all'ultimo Dopo lo chiamo, allora Vedo come sta Secondo me lo fanno entrare, raga Oh, ragazzi, tutto il live, tutto il live, tutto il live si è affannato niente non mi fa prendere il gioco ne è ma che mese bloccavo schermo bianco ragazzi che è un schermo nello ok ha visto un dog eccola poi è l'agenzia minchia oh madonna le animazioni ne sanno fa però è la che donald no kfc più me sembra più kfc ma che roba e poi eccola questo è buono che se me la compro skin per questo è meglio subito da che bella mafino delle stupi dog no ma che figata ma che faranno le macchine che si alzano bello prima c'è stato madonna guarda la pure scarpe le cose stavano pure come di caso si chiamano ma pure i balli che stanno oddio che mi è ma si è messa che lui ragazza che lui per mascherato tipo che minem contro snog forza e 3 mix capitolo 2 capitolo 2 remix e di vecchieri iniziato e tipo di gioco no scopo 2 word come gesù sword oddio ok ci siamo che noi non vedo niente ok qualche buttano ha buttato ma le sede che a te ne so qua io ma io sto solo mette vado la ma io so quella macchiana ma Ma qua quella della vecchia, non c'è quella nuova Eh, domani, domani è quella nuova E mo che si fa? E mo niente, è finito l'avento e vaffanculo Ma devo massare le persone? Eh, si Io ma come vedo qui in mappa, ragazzi Allora, vinciamo la partita, ragazzi Oddio, oddio, no, 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 è impossibile vince È impossibile vince, è impossibile vince Cazzo, ma, ma cazzo, non pensavo che fossi Ma cosa stessi? Io la, la stronti, ma cazzo Ma io non pensavo, cazzo Ragazzi, devo fare da con uno, ok, uno è morto Allora, il momento nemmeno fatto tutto quante Cazzo, ma voi si gioca, eh? Dove siete scelte? Guarda quello che sta là dentro, guarda, guarda Guarda quello là dentro Ok, io non c'ho nemmeno un'arma Non c'ho Ma voi dove siete? Grazie Ma stiamo giocando Che fe ne sono a te Io, io non so, ma andiamo in lobby, ragazzi Eh, penso che sì, questo è buggato Boh Io sto un passo dentro Dentro la tomba Vole siete dentro? Io sto in game, se Eh, non lo so, raga, io non pull Però, cioè, se non mi vedo qui in partita Eh, vedi quello che non mi vedo No, è morto, morto, morto T'hai bugato, t'hai bugato Torniamo in lobby Vabbè, andiamo in lobby, andiamo in lobby, andiamo in lobby Ok Ok Ah, tra 30 secondi Eh, io ritorno in lobby Tra 30 secondi, dice Ok, sono in lobby, raga Io pure A me dice 20 secondi Per tornare Ok, ok, ok Eh, chi è il posto della cosa? Potete mettere no build? Matteo, puoi mettere no build, vai, bravo C'è sta no build Ok No, prima era batteria normale, capito? Mamma mia Ma ora voglio capire una cosa Ma ci mette la mappa nuova o quella vecchia? Secondo me quella vecchia Quella vecchia, quella vecchia Quella vecchia credo Che cazzo è, raga Io volevo giocare stasera con la mappa Ehi Grazie, Invincible God Ciao bello Grasimilla del Prime Ok, ma è passapattaglia S'aggiornato Grasimilla 27 mesi dell'eserba Grasimilla NGT Fede bello Ciao bello Se non staggiorna è perché domani è passapattaglia Regà, regà, forse sta continuando l'evento, eh Cazzo, come? Eh, mi si sono tolte tutte le armi E stiamo, tipo, stiamo camminando Metti pronto, senti Stiamo pronto, regà Non so se si è buggato oppure sta continuando l'evento, eh No, ma fanno domani, regà Perché ora chiudono i server Domani no Chiudono i server Fanno la manutenzione Per su uno dei due ci sta Nuova season E' stata una scammata sta cosa Cioè, se effettivamente, minchia, regà Lo chiamano, lo chiamano un evento Una cosa che ti dura Dici minuti Esatto, esatto, eh Ma dura troppo poco Troppo poco, cazzo Esatto Remix e preludio Quanto è durato, regà 18 minuti è durato Ma che faccia da culo che c'è questo Ma siete rientrati voi in partita? No Stiamo aspettando a te che torni Vabbè, esco Perché tanto non succede un cazzo qua Pensavo succedeva qualcosa Invece no Arrivo Ciao Jennifer Ok, sono in lobby Che cazzo vengono lobby? Ok Metti pronto Vediamo un po' che succede Ma che volete giocare? Oh, si, se volete Se vi va Ma Te dirò Tu, Santi? Santi ha detto di sì che voleva farsi un'oretta prima Di Mattei dimmi 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 Ma vuoi giocare? Sì Mettete pronto ragazzi Vai, vai Ho messo pronto Aspetta che levo qua push you torque Perché devo traverla Ma che era? Si sono nuova o quella vecchia praticamente? No, sempre quella vecchia Domani mattina c'è quella nuova Che schifo Perché hanno fatto sta cosa? Ok, me sentite? Ok, perfetto Perché è sempre così Grazie Grazie ragazzi Allora Mattei ti dico una cosa Se tu guardi il passabattaglia adesso Come a sentire sì Se tu guardi adesso il passabattaglia Ci sta il passabattaglia vecchio Quindi vuol dire che La mappa è quella vecchia Capito? 2 novembre 2 novembre c'è scritto Sì domani alle 9 che fanno Roprendo Roprendo Chiudo in i server e metto una nuova mappa Aggiornamente e poi Per l'1 e per le 2 C'è stata la mappa nuova Sì ma di solito stoppavano subito C'è 18 minuti il durato 2 canzoni contro il Snoop Dogg E quella la minchia che fai Io mi aspettavo tipo una mappa che esplodeva Tipo roba così Ma io pure Io mi aspettavo che già eravamo in gioco una nuova mappa Capito? E chissà quanto avranno speso per Snoop Dogg Milioni Cioè non dico che minchia Snoop Dogg E' pagatissimo raga Altro che Secondo me più che Se non ve la moneta non si smuove raga Più che un evento raga è stato un annuncio Sì esce domani Esce domani Io mi pensavo che uscisse stasera Vabbè dai Pazienza Non fa nulla Cazzo ma io volevo Ma io volevo vedere Eminem contro Un Che ne so un freestyle custom Tra Eminem e E quell'altro Non avranno i fondi per farlo No dici? Ma come non avranno i fondi? Sta a posto pazzo Andiamo qua andiamo qua andiamo qua Andiamo andiamo Prima lamin che renderanno i 50.000 ve lo dico io Manca secondo me Perché vogliono andare a vedere Allora la season raga finisce stasera Poi da domani metteranno i server in manutenzione E per le due ci sta la nuova season Quindi per domani va Appena vi svegliate Dici? Sì sì te lo dico io Sempre così e non va Poi in ritardo si fanno tipo le 3 le 4 Pieno di gente raga Ma te c'è la modalità Oddio aspetta 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 Tornate in lobby Che è pieno ragazzi Tornate in lobby Che modalità è? Tornate in lobby Ma chi è? Dicono che ci sta la modalità Ma la mappa vecchia? Sì dicono Ma qua non fa prendere niente le armi Non fa prendere le armi però vedi? Ma questa mi sa la modalità che dicono loro Ma non fa più le armi C'erano tutti i baggatti raga No 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 Dicono che ci sta Ci sta Boh torniamo in lobby Ma è la modalità rientro forse Boh Vabbè E torniamo in lobby da casa se bagga tutto quanto raga Ma con quelle armi ti va via Qual è la modalità ragazzi? Come si chiama? Remix è questa Quella che stavamo a fare no? Allora vediamo un attimino Questa è con Ma l'hai messo Matteo? Questa è zero build Zero costruzioni E' questa è Remix Vai andiamo Proviamo E' questa? Ok mettete pronto raga Mettete pronto Andiamo Questa è Non mi prendeva le armi per terra ragazzi Era tipo bugato Non può Nessuno poteva prendere le armi per terra ragazzo No ma questa non è Questa è quella di prima eh Esatto Boh vediamo un attimo Voi siete già dentro? No Sì adesso sì Adesso sì adesso sì Ma questo è da dare rientro no? Sì Qua mi dicono che ci sta ripaggando nei server raga Si sono bugati tipo i server E allora niente Io vado a fare altro se sei bugato Aspetta vediamo un attimo Vediamo questa partita Matteo Se non va Se è bugato Aspettiamo domani Domani sera In caso domani sera Ci giochiamo La mappa è quella vecchia mi sembra però a me Sì 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 Quella vecchia Ma domani è quella Domani Matteo la cosa Vedi qua però le armi me le piglia però qua vedi? Ah sì ma quando sono atterrato non le piglia Poi vediamo quando atterriamo Ciao Nicio Ah ok Però andiamo di pallendare in altri posti raga forse è quel punto la che è bugato Andiamo a testo da nitrotomo la come cazzo è che si chiama? Andiamo a testo da lì 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 Allora Andiamo a testo da lì Ma all'evento? No 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 All'evento è bugato ma te Andiamo a nitrotomo andiamo a lì E tranquillo Andiamo a testo da lì Andiamo a testo da lì Andiamo a testo da lì Eh ma appena finito l'evento del solito ragazzi Cioè doveva Dovevano tipo chiudere i server no? Secondo me No li chiudono domani Matteo Domani domani Sempre così hanno fatto Alle 10 di mattina li chiudono e verso l'una e le due Sì 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 Dall'una alle tre poi li diaprono più o meno Hanno messo hype per niente praticamente Io sono via quelle armi Ok me l'ha piegata a posto A posto raga Ok qua la pina A posto funziona Io Sono bassi cazzo eh Non dobbiamo andare in quella zona Sperando che la safe non si chiude là Sì sì E c'è uno raga eh Eh pure qua a me c'è uno E se luttiamo qua ragazzi Puliamoci al volo E come si gioca? Nel mio aggiornamento Come si gioca? Che io non c'è Come prima ma te non che me nulla Come prima Sinteramente non che me nulla ma te Anche che hai rubato qua morto Ah booooo E che hai rubato qua ragazzi Ah ma io è la prima volta che gioco ragazzi Ma che ne so Ma io sono nabuso Beh è pure su Minecraft ma te Pure un lato sei Madonna Oh cazzo chi è? Compa ce l'ho E cose grafiche A posto Eh eh vi giuro che è Vi giuro che è la prima volta Ma siete voi che spara? Che sparano? No No Ma stasì sono dici ma te No io in generale non so giocare a Fortnite Vieni qua ma te 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 Mi chiedate per terra Ah a posto Io sono full Vai andiamo Vediamo 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 Fatto bacio con krafika Ma io non ci sono mai litigato con krafika Beh ma Matteo con krafika se sai che si amano loro per quello E si litigono è perchè hanno problemi amorosi ve lo dico io Sì sì è così raga Ah io ci sono eccome Annappi un medaglione? Ehm No eh E minchia però se lo so fatto però Io andrei qua Che cazzo è il raft? Eh però se lo so fatto tipo il castello Tipo una prigione Che storia? Però se lo so fatto il medaglione perchè non ci sta No con krafika solamente lavorativamente parlando Per me ci sono cazzato Però i Però se lo so fatto Per il resto personalmente parlando non c'ho nulla Sparano sparo sparo dentro Occhio raga Ti vedo stanno su Sì Oddio Eh qua che scendi la madonna scendi Ma perchè ho la terza persona che cazzo è? Forza troia Eh a cala allà che mi hanno visto Mi hanno visto Mi hanno visto Diamo ammazzare Oh! Che cazzo? Che cazzo vuoi? Mori pezzo del merda E muori porca puttana Nè dio santo Ragà non morite raga non morite Eh senti Sentiti troppo forti so p Sì Sì ma io c'ho la terza persona Questa è paccato tutto raga Sentiti non viene scappa via se riesci Sono forti Scappo? Se riesci si sono forti Eh aspetta che scappo da qua Dalla fogna Aspetta un attimo a te Fammi trovare una Eh però se devo lezzare quella è la cosa ragazzi Andi vieni qua da me Vieni da me sono safe Sono safe Ce la fai? Sì sono safe vieni da me vieni da me Aspetta che ricarico qua Bello Cazzo è qui Ecco 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 Cazzo del merda porca puttana Ragà aspettate Mi sta rincorrendo Eh sta sopra a scherzo Sotto sotto Ok capì Sta qua sopra da me Sta sopra da me Cazzo è qua dietro raga Niente Che sta Pezzi di merda Eh niente Eh niente Eh però può capito Può capità Facciamo un'altra Mettere un altro Vai 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 Proviamo Pro via 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 Che mi fa la cosa della terza persona Non so perché però c'è il bug Ce l'ho buggato Ma che bene frega Quanto può star qui raga Ma mi interessa Domani si gioca Peccato però Grande peccato sta cosa qua Che non c'è la mappa nuova Grande peccato Però dai Ma se siamo con Matteo E con Coso Con Grafic Ci divertiamo lo stesso Ma che è Io che ho messo sta roba Ma che è che ho messo sta cosa Ma che è Sandì a te ti piace passeggia in bicicletta Oddio no Sandì a te ti piace passeggia in bicicletta No a te ti piace un tuo culo Non a me No A te piace passeggia in bicicletta No a me No a me non mi piace No non mi piace Ma come no Sandì E dai Una bella pedalata La mattina Ma voi cicletta Non in bicicletta La domenica mattina E dai No no Ciao Angelo Ciao ragazzi Ciao a tutti Ma E dai Sandì che ti piace E zitto Ti stanno a tirare Le peggio petardate Il cazzo lo so Che stanno a sparare Boh Non so se lo sentite Andiamo regalo Ehm Non lo so Ne trovo No Mi fa cacca Eh Scania Eh non lo so Raft L'unico che può giocare con noi E qui Lì no Lì no Lì no Che c'è il bagno E ma lui è tipo baggato Andiamo a Raft raga Andiamo là Ma tu te lo ricordi Quizzi Senti Raft Raft Cosa va a te Quizzi Tu lo ricordi Sei Gennaro Che è successo Che fine ha fatto No no Che fine Ma l'hai più sentito Non lo so Non lo sento nella vita Non lo sento nei tempi d'impero Quindi può correre Da un botto Cazzo allora Oh raga Però andiamo qua Andiamo qua Tassatore qua La più lontana che c'è però Perché non ci moriamo Ma davanti ne sono arrivati qua Da sti pezzini Eh perché adesso facciamo l'ultimo Inzima il sanino Poi cambio gioco Io stacco Io ragazzi Devo mangiare Sto a morire di fame Sì Oggi è il nome Non ho mangiato Ma come no Ah ma te Me lo metti il bod Il Me lo metti il bod Cioè Il bod Di Twitch Che non lo vedo No perché lo devi Perché lo vuoi Eh voglio vedere la parte Tu non ci saltare in aria Poi me lo fai vedere No son morto Arriva Arrivo 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 Sì ragazzi Devo pulare un attimino Eh Perché stavo un pezzo De merda Ho fatto Guarda Guarda Ti ha messo qua Dentro Guarda Eccolo 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 C'è la terza persona Che cazzo E raga Aiuto Ma dov'è il boss Ecco Eccolo 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 Morto Sei sopravvissuto Son di Sì ma io c'ho la terza persona Però non so perché ragazzi Eh Mi la terza persona Ma pure a voi No 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 E me no Perché c'è la terza persona Son di Come se leva sta cosa Raga Come se leva Ma è la prima volta Che sento la terza persona Su fortuna Te senti Sì te lo giuro Poi se sminchiamo Però tornate meglio Perché miro meglio Cioè te lo giuro Voi tornate meglio Venite qua che c'ho il boccione Dai dopo Quando stacco la live Va bene Se veramente Si sono oggi Mi metto a guardare Ninja Come i vecchi tempi Ninja Ma che mi medica Giai Io la mi medica Maglietta nera Della Red Bull Red Bull Quando ho fatto il torneo Quando ho fatto il torneo Ma dov'è Mafrosto del boss Devo stare Però la terza persona Mi sta piacendo Questa qua È mazzata Addio Chi è qua Ho un vuoto Ok Ma è morto Ti do una mano Arrivo Ammazza 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 Ok Grande A posto Chi è il medaglione Matteo Lo vuoi tu No 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 Che fai il medaglione Eh ti spotta le persone in mappa Ti spotta quello là Ti spotta le persone Bono cazzo Guarda Matteo Matteo guarda Eh dove Sono la motosega Matteo Eh lo so La conosco La conosco Ciao Ciao ragazzi C'è gente Pazzi raga C'è gente Senti C'è gente vera Mi sa Sì da me Vieni Ma è un bot Dici Però sento tipo passi strani Non lo so io Ah è bot Questo è bot Ok Sono male Sicuro che è bot Senti Se volete andiamo Ragazzi tanto io sono full Sono a posto io Se volete andiamo 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 Aspetta che ti vado a trovare una mano Ah dove vuoi Tanto qua È uguale Qua mi sa che La giampa Andiamo più a quella Dove Dove sta la giampa De qua De qua Vieni Arrivo Andiamo 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 Vieni Andiamo Matteo Vieni Sto coso qua E marza off Cioè E off ninja Come Come off Ah perché c'è Luca Gomix E' uguale Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Sto coso Sto ragno Vieni qua Sto coso qua Madonna che ricordi Chi è che si ricorda Dottor Sto coso qua Devo sbissere le palle No Dottor Spectre non giocava a Fortnite O si No si giocava Minchia E' come se giocava 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 Guarda ragazzi Andiamo qua Venite Dobbiamo fare la reaction A uno Senti domani Andiamo una Che ti dà l'altra Ciampo Venite Domani Teghiamo Anzi domenica Teghiamo Facciamo una reaction A uno E' su YouTube Un pazzo Uno spagnolo Uno spagnolo Che è andato Sui quartieri Praticamente Quelli più criminali D'Italia Ah lo zen Lo zen Eh si 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 No 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 Un altro Un altro Un altro Che credito Guarda Si è andato in giro Gli hanno sparato E' andato in giro Che volendo Gli hanno sparato Gli hanno sparato Ma te una volta E' andato Bruno E' andato Non conosce Bruno Tipo la distriscia Si si E' andato allo zen Chissà si Ha tirato Porca putta Mi ha pare che c'aveva la macchina Con i vetri Antipoghetti Le micchia Gli hanno sparato al vetro Con la doppietta Te lo giuro Eh ma Bruno Ti vanno là Per rompere Perché se no Lo prendiamo in pieno Eh ho capito Ma vanno là Vanno là Per rompere i coglioni Vanno là C'è la macchina Ok arrivo Boh Ammazzarli Non penso Eh Martina Abbiamo cambiato città Ora siamo sveri Abbiamo fatto la distrazione Ragazzi Guarda che è vero lutto Che ci sta là Ma non mi rubo tutto quanto Sono morti? No Eccoli Da mare Però poi questa Arrivo Ti fa ammazzar Non morire Non morire Stanno qua sotto con la macchina Sì sì Sento la mano Sento la mano Sento la macchina Eccoli 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 Sì Sbarata Sbarata la macchina Ebbene qua E dove va A corre A corre Come Dove ragazzi Vai raga che rotta Vai pochiamo la macchina Ragazzi Vai rotta Gigi Ma stiamo lì Ragazzi Quello c'è lo scudo Porca buca È dura Ma intanto rispottiamo Sappiamo due Quello ha buildato Uno l'ho fraccato Vai sta uno lì Quello che non mi mira 75 75 Mi spavano da dietro Aspettate C'è uno che mi spavano da dietro Aspettate ragazzi Ma che pure da dietro Ce l'abbiamo Sì 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 Beh è sempre lui Un altro team No un altro team Un altro gente 130 130 Gli sono fatto Me ne massi al volo Uno atterrato Ah ma stanno in due Guardali Atterrato uno Stanno in due Uno atterrato De qua ragazzi De qua De qua De qua De qua De qua De qua Ok Vai Gigi Minta Oh L'altro L'amico 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 Qua dietro Passi passi Qua sopra Qua È l'ultimo Ultimo Ultimo team Morto Ah porca puttana Che fai Ti fanno ammazzata Quello Te curo Te curo C'è La 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 c'è Ok 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 No 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 Niente Sborra Ok Perfetto La voi La voi Spruzzo Questo La vengono La c'è Automatica A posto Così Raga Questa La vinciamo Eh Più o meno C'è 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 Torniamo Andiamo Andiamo Arrivo Ok Visti Visti Vado Vingo È mai difficile Vincere qua Ragazzi Oddio Eccolo Eccolo Che mi spara Bastardo Eccolo Oh Ristronzo Ma io gli sparo Sulla testa Ma non va Ma fai body Non tocca a me nulla Ma te Fai body Beh ci sta Dai Produttore elettronico Musica elettronica Ah si Mi fa piacere Occhio qua ragazzi Ci potrebbero stare altri Attenzione Hai colpi assalto Senti Senti Guarda avanti i nomi 500 Via via A posto Eeeh Prende la macchina Ragazzi Prende la macchina Non sta Non ce ne sta manco una qua Nemmeno l'ombra Vamos Grazie ragazzi Allora Manca una macchina Sero tutte Tutte quanti Gurate Vero Minchia Fa piacere Letteralmente Zero macchine Ok Non mi tocca Pronto Non mi tocca Andiamo 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 Martina Al tuo mare 21 Se non mi ammazzano prima Però si Perché se ti ammazzano prima Sandi Perché devi dire così Ma te Ma che cazzo ne sai Che cazzo Che cosa ho sognato ieri Se mori tu Dopo che cazzo Come facciamo Eh lo so Lo so E' che vero Per il cazzo Proto manga Esatto E' vero Andiamo a cercare persone Andiamo a cercare qualcuno Oh 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 Aspetta un po' Ho visto una cosa Eh ho visto una cosa Eh ok 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 Eh non potevano Eh non potevano Non prenderlo E c'era un fucile Lo scarro oro Come fai a non prenderlo Buono 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 Oh sparano a destra No dritto sparano Sicuro? Oh eccoli in aria Ho giampato uno Guarda sto stronzo Guarda 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 O lo becchiamo ragazzi Andiamo qua davanti a noi a terra ora No tracca Cioè ho fatto 30 Sì eccolo E' pure io pure io Pure io 30 Eccolo E' qua mezzo del merda E' qua Oddio ce l'hai dentro Ce l'hai dentro Ce l'hai dentro E' non scendere Oh cazzo Mi stanno sparare da lontano Mi stanno sparare Un timo Un timo Un timo Un timo Un timo Da lontano Oh ma c'è uno qua dentro C'è uno qua dentro Uno qua dentro Ragazzi Che penga Che penga Un qua dentro Che tu è Sta dentro Porco Sta dentro Dentro C'è uno qua dentro Cazzo Dentro dove Porco Dentro la macchina Dio C'è sta uno Dentro la macchina C'era uno Dentro la macchina Ah no No Sì Sì Guarda il suo gatto Cazzo Madonna 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 Ragazzi Ragazzi Non capisco il cazzo Porco Dio Porca Buttana Via 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 Ragazzi Non capisco il cazzo Vengo io Mi sborro Porca Buttana Aspetta che me ne scappo io qua Raga Qua me ammazzano Fammi cura Porca Buttana Eccoli Eccole 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 Minchia Dio Santo Ma non ho fatto la pezza Cazzo Cazzo Eccole Eccole Aspetta un attimo Ah quello sta Ressa Guarda 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 Come resta Ressa Guardali Guardali Come resta Non sono La raga Mazzateli Ragazzi Eccole 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 E lì Qua Vieni E lì Ti nascondi Ti dal muretto Ti nascondi Ti dal coso Dei resti Ti nascondi Là c'è C'è un altro Lì Che sta Nascendo Un altro Team Anche da qua vengono Ragazzi Sta la 6 Da qua vengono Eccoli Oh ma non lo vedo Sta resta Sta resta Sta resta L'amico E ci sta un altro Che arriva Anzi io non l'ammazzo Così si scanno Eccoli Vado in quella collina Ragazzi Così me li faccio Da dietro Ah ma ci sta Sì sì Ma io li prendo Da dietro Aspettate E lo sta resta Sta resta L'amico Sta resta Arrestato l'amico Arrestato Sicuro Ecco Ecco Non è restato Eh sta sborrà Sta sborrà Sì 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 Aspettate da saltare Aspettate un attimo Che vado sopra E li prendo da dietro Un attimino Eh due secondi Stanno là Non morite Non morite Non morite Ok ci sono Eccomi Porca puttana Ok uno morto È uno morto? No tutti morti Regali GG Tutti il team fatto Eh sono io Porca puttana E c'è Porca puttana Sta banana L'uomo banana Mi voleva ammazzare L'uomo banana De merda Ce l'ho il Ma state zitto Ah porca puttana Mori sempre tu Tu muori Ma non è vero Eh però io vado in prima linea Vado Eh Mori però No Vado in prima linea Per farla da tank Non funziona così Non funziona così Ok A posto Anna Anna mi safe Che c'è mazza la safe Oh c'ho le splash Regale Senti Aspè aspè Vado con noi È successo Diego Senti Ma sei pazzo? Minchia Che dimmi 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 grafica Eh niente Il barilone Te lo facciamo con noi Vai 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 Sborra Sborra Annamo Ma la macchina che è scoppiata È stata in aria la macchina Eh mi sa Sì sì Ah buono No se volete ragazzi C'è una cassa buona Quella 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 buona Speriamo che qua non ti paga più le armi Perché non mi funziona No non si paga Il jetpack Era il primo per sempre ragazzi Che si era pagato Per quello Ah non ce l'ho il jetpack Vai via via qua Rubba 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 tutto Rubba 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 C'è un ragazzo in kart Di nome Franco Che mi ha chiesto Se puoi uscire con te In zanzo amoroso A Franco A Franco Tanto a Sandino A Sandino gli piace A Sandino gli piace Bello puzzolente Gli piace Ma che è Ugazzo? No rega le armi Mi sono sparite le armi Vedi il socio Ah pure me No rega non ci vedo No no Ok ora ci sono Ok Mi spuntano Ah ok Mamma mia Ah dai regalo Che è? Ah eccoli Ah sto botto Sì non mi mira Però non mi mira più In terza persona Guarda Se pagano fortnite Eh niente Niente ragazzi Ah E non mi mira Perché hai risettato le armi Eh Vedi qua È vero pure me Perché? Le sono risettate ragazzi Ci sono più mirini Perché? Come le sono risettate No ma io ce l'ho i mirini Tu ammetti ragazzi Mi sono risettate le armi Io ho il mirino del coso E si risettate tutto Ma no Guarda qua C'è sì pure a me porca puttana È vero? A me no Mi scompassa la barra per tre secondi E poi ci sono risettate le armi Ma secondo me perché hanno problemi con i serviti Lo dico io Stanno affatti con monotenzione Ah grazie bianco Cazzo vai lì e succede quello Dici Ma come si Anche però così ora ragazzi Muoio senza mirino Cazzo è vero Se poteva vincere sta partita Però così ci muoio Gente sopra l'isola Sì 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 Eh gente sopra l'isola Minchia 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 Sì è come gli sparano senza mirino Ok occhio 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 Ah ecco lì Sì di merda camperone Guarda lassù Porca puttana Però ragazzi Non sapere in posti Vedi che loro c'erano il mirino Vedi là Eh no 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 Lo c'erano Aspettiamo Aspettiamo allora Eh non se può Sto piano di just Sì vedi safe eh Ci me ammazza Allora in fondo ci sta pure un lutto Vediamo un attimino Sanno decidi da piglia Va 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 Porca puttana Guarda 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 come mi sparo Ragazzi Mi sta narrando Ma tanto devono venire in safe pure loro eh Oh Madonna 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 Ragazzi Che sta succede Eh mi stanno a far malissimo E' una in safe però Mi stanno a sparare bene però Cazzo 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 Fammi curare un avolo Aspetta un attimo Occhio ma a te che ti fanno male C'erano i mirini quelli Cosa che se io ce l'avrei cazzo Io li avrei già ammazzati Eccolo No 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 Io li sto colpendo E qua? Ma non muoio Eh ma io non posso raga Non mi rino Come faccio? Posso farli? Ok arrivano qua Attenzione Apri Occhio che jump Ora ragazzi Sperto che mi alleno Guarda qua che spagnotta Eccolo Guarda che spalla Allora Dove sta no? No 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 Minchia raga sotto Ma io porca Eva Bianco bianco Eccolo E' bianchissimo Ok 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 Vai venti Vado a pialo ragazzi Non caccia fuori la destra Se caccia fuori la destra Grazie ragazzi Vado a pialo Vado a pialo Vado a pialo Vado a pialo Sì vedi maca Ammazzamolo così Mendo un bel fuggito col mirino Gli scoppiamo per bene Morto grande Ok gg Che sono armi eh Ci sono armi raga Ah minchia buono Buono arrivo 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 Ce l'ha pure? Minchia Eh io c'ho tutto il medito Ok Se mi discuti però Bello minchia Bello sto fucile Allora fammi vedere Fammi vedere che c'ha Vado a pialo Pialo a jump qui raga Sono a jump No Do sta Andiamo 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 Qua prima che arriva la safe Bello sto assalto raga Bello cazzo Andiamo senti Prima che arriva la safe Prima che arriva la safe Questa è vinta raga Santi andiamo corri Sì sì Pialo la safe Andiamo Do sta Stanno lì Stanno lì Stanno lì Stanno lì E' buono ma fai fare stare a poco Ci sta come cosa raga 60 kg Ci sta comunque Stanno la media Per conto che una Nel tutto il medito Te fa 20 kg 20-30 kg Muoio? No Certo che li faccio Vedi qua Qua non è facile Stavano Stavano da dietro Ragazzi Li sentivo da dietro Li sentivo da dietro Che stavano sotto terra Sotto terra Da dietro Ah perché forse Staccavo forse Minchia 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 fa male Ah no Qua tipo ci sta De tutto qualcosa Oddio Deve pure qualcosa No qua ci sta un cazzo Do sta Do stanno? Andiamo qua sopra Andiamo sopra le torri Arriva arrivo Sto arrivando Oh gli ultimi Ci sta Eccoli Due team Buono Bruzzo Bastardi Do stanno Uno atterrato Uno atterrato Uno atterrato Uno atterra Qua dietro Qua 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 sopra Qua 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 Eccoli 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 Aspetta ma te che mi curo Qua Aspetta un attimo Aspetta un attimo Qua raga Ho fatto un altro Eccolo Ecco Eccoli Sta sotto mi sa Ma eccolo Si sta a cura Guarda guarda Si è messo lì Guardalo Questa è una pozza Di qua da me C'è sta uno ragazzi Arrivo Astro Vieni qua Guarda come scappa Chi è che arresta? Chi cazzo è dietro? Chi è che arresta? Non lo so Madonna Non so che hai mettato Ma le ho adotto Conto lo scudo Molto grande L'ultimo L'ultimo Era quello là Ci stanno L'ultimo Quello là ragazzi Aspetta che lo vi scelto Verso te là Ma te l'avevo visto Per di là Ping Ping Rosso Vai raga che stai vincendo Manca uno Vinta Ping Rosso dove? La corona Ok L'ultima corona Di Stasito Dove Ping Rosso? Senti Dove? C'è stato uno Raga Però è scappato Però è per di là Te lo dico io Io non lo vedo Visto che tu hai bandaglione Voi lo spoti però Ma è nato qua sopra Eccolo 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 qua Eccolo qua Visto 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 Lo ragione Vedi Arrivo Guarda come scappa Guarda 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 come vola Ne abbrata è quello Eh ma può volare Quando mi pare Da qua raga Vai mazzolo mazzolo Oh e fammi volare E fammi cuore Il gioco del merda Dove sta? Qua Eccolo A strozzo Madonna Dio Cristo E bambò Fa il buono Ma non scappa però Ragazzi Sta scappatelo Sta cazzo Sei scimmia qua Ah 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 Ma non scappa Ma non scappa E mori Porco Dio Bastardo Lo cazzo è andato Eccolo Guardato Madonna Madonna Dove sta? Guardalo guardalo Dove sta? Eh ma guarda Sta a spammare Raga Sta a spammare Mio Dio E sta là Sta là Sta là raga GG Dai ragazzi Bella partita Bella Bella Mi piaciuta Ok Dai GG Ragazzi Vabbè Ciao ragazzi Alla prossima Che te vanno a rubare È fatto orario Ciao ragazzi Come devi andare a rubare Vabbè Abbiamo rubati Ora si va a rubare Ciao ragazzi Ciao 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 grafica Ciao Ma questo sta fuori da destra Ma come devi andare a rubare Comunque Un evento Un evento Pazzesco Fenomenale Ragazzi A parte tutto Io devo andare Un attimo in bagno Quindi Dieci minuti Di pausa E poi giochiamo A GTA GTA Vi prometto che faccio Almeno un'oretta Un'oretta GTA Intensa Allora Andiamo Vediamo un po' Che dice Vediamo un po' Tra poco Mi sto Mi sto Italiano Sì Sì Se finisce Ah Nascosto Se finisce Nascosto Infatti ho detto Se finisce Nascosto Ti è piaciuto Il evento Fortnite Na madonna Mi è piaciuto A voi Mi è piaciuto Ragazzi Io devo un attimo Andare in bagno Non mi vogliate male Ma ce l'ho proprio Attaccata Devo andare un attimo Assolutamente Dieci minuti E torno Arrivo subito 780 E' impossibile Da raggiungere Rude Impossibile 780 Sono 8 9 sub Io non Non finisco mai De Degraderci Però Penso che sia Veramente difficile Detto questo Andiamo avanti Andiamo Ci vediamo tra poco Signori Però su ttok Devo staccare Perché Minchia Ne mancano 9 E 4 Sono state Scammate De che No Cioè E' automatico Ragazzi E' quello De twitch Automatico Abbonati Totali 773 Punti Abbonato E non so Perché me lo segna Così Però è automatico Tante sub Vengono E' Il costo automatico De twitch Perché tante sub Vengono Rimborsate Infatti ho visto Che tante gente Chiede il rimborso Vabbè Non è un problema Quante ore stream 8 ore 8 8 ore e mezza Più Altre Eh 2-3 Orette Per editare I video E per caricare I video su youtube Perché I video su youtube E me li faccio Tutti da solo E li gestisco Da solo Quindi A parte Che per la cifra Che è Cioè 5 euro L'ora Vabbè Lasciamo perdere Però Almeno Meglio Meglio da niente Comunque Questi qua Me li carico Tutti da solo Me li carico Piano piano Meglio da niente Comunque Grazie Grazie carca Ti auguro il meglio Grazie mille Grazie mille Bellissimo Grazie Mi fa piacere Carca Mi fa piacere Comunque A parte tutto Fa un po' Vedere qua THS gaming Le live Verticali Che cazzo so Boh Dopo me lo vedo Sto video Com'è andato Eh Però Non male Dai 2000 views Per essere fortnite Ci sta Eeeh Minecraft Bello Bello Mi piace Vediamo un po' I commenti Spero che almeno Ci siano commenti belli Di vedere il finale Il finale È ancora più Aghiacciante Dio Guarda Guarda Ricordinate il labirinto Basta che chiedi In chat Del gioco Eeeh Qualcuno Ti Ti Perà Sicuramente Ok Questo qui C'è pure 10 like Un bel server Promette bene Peccato per i mod Non serve Neanche Non serve Neanche una risposta Da Da una persona Che non Si identifica Però Se mi Dici Come Ti chiami Ti dico Perché Sei stato Bannato Questi Mio nonno Li chiamava I magna Sarà Sarà Che Si Ce Lo so Un casino Comunque Questo server Sta Nascendo Già Vecchio Serve qualcosa Di più Innovativo Mamma Mia I server Bad Esistono Già La gente Ha già i propri Server di riferimento Per giocare Lo stesso Vale per One block Di questo Server ormai Di questo tipo di server Ormai si è saturi E quindi Esatto E chi se ne frega Guarda Guarda E' una cosa Non molto Positiva E che E' una cosa Perché Se non sei Fan di Matteo Non ci entri O meglio Server Proco Pratico Ah Marco TR01 Eh Due ore Fa Però ancora Continuo a seguire Alla fine Oh Meglio De niente Non poco Pratico Ha fatto Griffing Ah beh No vabbè Comunque ci stanno Parecchi commenti Belli Dai A parte questi Magna Cioè li chiamo Magna Saraghe io A parte questi Però Ah Sta andando tutto Abbastanza bene In corso di revisione L'episodio 4 Vediamo un po' Vabbè Comunque Andiamo su Discord A vedere quello che dice Santino Chi è? Ma chi è questa? C'ha qualcosa che non mi convince Comunque Ma fa parte veramente della guardia di finanza? Guarda che alla fine è un lavoro come tanti altri Ciao a tutti Credo sia giunta l'ora di fare un fantastico video di spiegazioni generica Vista la mole di commenti che leggo in giro e foto mie che vanno nei vari gruppi Commentando senza ovviamente né leggere né sapere Sono una collezionista di divise gradi Tra l'altro sono autorizzata quindi tengo la mia collezione strettamente in area privata Quindi non ci vado in giro Non le porto appresso Ah ok 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 ho capito Vabbè Comunque vediamo un po' il server quanto sta Vediamo un po' Alla faccia di tutti gli invidiosi Secondi signori Secondi Alla faccia di tutti gli invidiosi Tutti quelle magnasarache che stanno a scrivere sulle cose Porca puttana Secondi E poi E poi E poi E poi Perché comunque ancora Quindi Sti cazzi Comunque ragazzi Io vado un attimo in bagno E ci vediamo tra pochissimo Arrivo Arrivo subito Beh raga Per essere una beta Se stando online La reputo Un ottimo risultato Ripeto Beta E primo server Di matto Ok se io direi che è un ottimo risultato Io direi che è un ottimo risultato